Buongiorno signor Sindaco Buongiorno, buongiorno questa parte mia è doveroso veramente darti i bentornati grazie, grazie tanto ci mancavate entrambi questo mese di settembre come lo vede? visto che si dice sui giornali è il mese decisivo si fanno i conti divengano al pettine noi in questi giorni arriveremo a fare i conti i conti definitivi i certificati per quanto riguarda sia la fondazione delle muse sia la fondazione dello stabile questo porterà ad avere dati certi dopodiché agiremo sul riequilibrio e quindi a questo punto ci approssimeremo verso fine settembre il riequilibrio sarà accompagnato per quanto riguarda le fondazioni anche da una proposta di fondazione unica quindi che riunisca sia l'attività della prosa sia l'attività della lirica e questo dovrebbe anche permetterci di quel risparmio strutturale che la corte dei conti ci richiede Ancona è già verso un altro percorso verso un'altra prospettiva elezioni e quant'altro dipende da questo mese oppure no? è chiaro che per amministrare si vuole il consenso e quindi il consenso deve venire dai gruppi consigliari dai partiti se questo non c'è bisogna prenderne atto e prenderne le dovute conseguenze